Ciao a tutti, sono Carlotta Casali. Ho cominciato a giocare a padel quattro anni fa e il cambiamento più importante avvenne tempo dopo quando venne a Madrid per ragioni di studio e qui conobi quello che poi divenne il mio attuale maestro Alejandro Moral, con il quale lavoriamo ogni giorno per migliorare sempre di più. Comincio il 2021 con tantissima voglia di giocare, questo perché ho un progetto che fa davvero ben sperare insieme alla mia compagna Carolina Orsi, con la quale abbiamo già giocato qualche torneo alla fine dell'anno scorso, abbiamo avuto ottime sensazioni tanto nel World Padre Tour come in Italia, quindi molti progetti, molte speranze, non vedo l'ora di cominciare, il calendario del World Padre Tour è pieno e Carolina e io abbiamo tutta l'intenzione di dare il meglio di noi.